ciao ragazzi bentornati su questo video ragazzi era scioccato non potevo dire ciao madonna ragazzi questa terza parte per dirvi diciamolo guarda il tuo mi ha detto il numero infatti infatti lo sai sei su youtube sei su youtube ragazzi ragazzi mi provo la data e quindi 50 like quindi ci guarda il like e ci guarda il like finisco finisco grazie a tutti Grazie a tutti.